come trovare la liquidità perfetta per la tua azienda ti spiegherò i quattro passaggi fondamentali che nessuno ti ha mai rivelato prima desideri finanziare la tua azienda in modo realmente efficace senza ritrovarti a sbattere contro dipendenti di banca burocrati che non ti danno risposte hai un progetto imprenditoriale che vorresti realizzare per far crescere la tua impresa ma ti manca la liquidità per farlo se hai già cercato delle soluzioni per trovare la liquidità necessaria finanziare la tua azienda o i tuoi progetti imprenditoriali probabilmente ti sarai reso conto che non è affatto facile anzi probabilmente ti sarai scontrato con una serie di difficoltà che hanno trasformato piano piano il desiderio che avevi in un fragile sogno se non addirittura ti avranno fatto arrendere e smettere di cercare per questa strada purtroppo ci sono passata personalmente anche io e so quanto pesi la frustrazione che deriva da non poter realizzare un sogno imprenditoriale perché capita di non riuscire a partire con tutti gli strumenti pronti anche se spesso ci si deve scontrare con le difficoltà e gli imprevisti di chi lavora nel nostro paese la mancanza di liquidità per fare tutto quello che si desidera è uno di questi per quanto ti impegni per raggiungere il tuo obiettivo spesso ti devi confrontare con persone e partner che lungo il percorso non ti forniscono sempre l'aiuto che ti serve i motivi per cui succedono questo è perché non hanno lo strumento fatto su misura per te o perché non hanno la tua visione non condividono il tuo progetto non lo sentono proprio e non hanno compreso cosa vorresti fare fortunatamente a questo tipo di difficoltà si può trovare rimedio e spesso con maggiore facilità di quanto ci facciano pensare il problema è che manca la conoscenza e la competenza per questa specifica necessità ma in fin dei conti nessuno a scuola te l'ha mai insegnato io stesso ho dovuto imparare cercando sbagliando e portando avanti con la mia ostinazione la ricerca di un metodo efficace per finanziare i progetti imprenditoriali a scuola nessuno insegna in termini reali pratici quali sono le strategie più efficaci per accedere al credito e quando apre un'azienda nemmeno a quel punto si ricevono suggerimenti la buona notizia però è che esistono delle soluzioni in grado di aiutarti e portare a termine i tuoi progetti imprenditoriali soluzioni che non posso prometterti vanno bene tutte per te ma posso prometterti che funzionano ciò determinato da fattori che vanno oltre lo strumento ma da come tu finora hai condotto la tua azienda l'obiettivo di questa guida è fornire gli elementi e capire quali sono le giuste azioni da compiere per conseguire il risultato desiderato con i miei clienti del servizio cred way mi occupo di vedere anche il loro punto di partenza ovvero analizzare la situazione che l'azienda sta vivendo oggi perché è un passaggio fondamentale dell'attività lo faccio per fornire un percorso completo e una guida costante come ho già detto non sono cose che si insegnano a scuola e la maggioranza degli imprenditori crede che basti un'analisi del commercialista per accedere al credito purtroppo non è così ci sono però delle verità che non tutti sanno e che io ho scoperto grazie a un'attenta ricerca che mi ha permesso di scoprire quali fossero gli strumenti specifici per aiutare le imprese questo per ottenere il credito senza patire inutili attese voglio rivelarti quali sono i principali passaggi da compiere per trovare la liquidità perfetta per la tua azienda crea un posizionamento e cioè identifica ciò che ti rende unico sul mercato rispetto alla concorrenza spesso l'imprenditore non sa dove posizionato rispetto a aziende simili sul mercato differenzi anche il tuo parco clienti non permettere di avere la maggior parte del fatturato in mano a pochi clienti pianifica poi il tuo futuro con dei progetti definiti e ben programmati non ragionare da dipendente ma pensa da imprenditore non delegare ciò che non può essere delegato per esempio la fiscalità la lasci spesso al commercialista ma non è un tuo socio e il titolare sei tu devi sempre sapere dove sei e dove stai andando deleghi rapporti bancari il direttore di banca è il miglior venditore della filiale non è un tuo amico deleghi il marketing e le vendite affidarti ad agenzie pubblicitarie e come lasciare il volante dell'auto in mano al bambino i nostri clienti cred away vengono affiancati da un team di specialisti che li aiuta a costruire un piano commerciale all'avanguardia deleghi l'amministrazione i conti devono essere in ordine e deve gestire tu l'azienda avvalendoti di personale qualificato non scelto magari per la parentela grazie a cred away i nostri clienti possono avere sempre sotto controllo la situazione non solo fiscale ma vedono le stesse informazioni che hanno gli istituti di credito l'altro punto importante è investire sempre in azienda gli utili aziendali devono essere investiti costantemente questo ti farà vedere di buon occhio dagli istituti di credito pianifica la tua crescita e non pensare alle tasse che devi pagare perché crescendo potrai affrontarle tranquillamente grazie a cred away i nostri partner non hanno mai sorprese le banche sono felici di lavorare con loro per il tipo di approccio che riusciamo a fargli creare investi in strumenti cose o persone all'avanguardia per migliorare sempre il tuo posizionamento un altro punto importante è tenere la contabilità in ordine la contabilità deve essere sempre in ordine aggiornata il bilancio della tua azienda è composto da un conto economico da uno stato patrimoniale e da un rendiconto finanziario questi dati devi averli sotto mano ogni mese con il metodo cred away questo non è più un problema e i nostri clienti riscontrano un notevole cambiamento rispetto al classico metodo usato dal commercialista quarto punto rivolgiti a un professionista che parla il banchese che significa attenzione ad andare in banca direttamente perché le banche oggi si rifiutano di parlare con chi non parla la loro lingua e non hanno fatto tutti i passaggi necessari per mettersi in ordine serve un professionista che abbia la possibilità di vedere chi sei e cosa fai prima di andare in banca capire la tua azienda e che si ponga verso gli istituti non in uno stato di bisogno grazie a credo e potrai trovare il giusto partner che analizza la tua situazione identifica il giusto partner per le tue esigenze se desideri scoprire qual è la migliore soluzione specifica per te grazie al metodo credo e contattaci ora al numero 0422 14 80 314 o tramite mail info chiocciola credo e punto it